Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale. Allarme Carni Rosse dopo 72 ore però diminuisce la paura, ecco che cosa ne pensano i fanesi. Il demanio concede gratis l'uso del parcheggio nell'ex caserma Paolini, risparmi anche per l'area del Codma a Rosciano di Fanno dove la regione diminuisce l'affitto di 16 mila euro. Cambio viabilità e nuova segnaletica, iniziati i lavori nel quartiere Poderino. Buonasera, benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo il telegiornale con un fatto di cronaca che è avvenuto a Caminate poche ore fa, probabilmente legato ancora una volta alla paura che si sta diffondendo dei ladri in casa e un po' al fai da te. Un uomo di 72 anni mentre maneggiava una pistola ha praticamente esploso accidentalmente un colpo che ha ferito un giovane che si trovava dentro la sua abitazione. Sul posto a Caminate, dal luogo di questo fatto, c'è Marco Ferri in collegamento. Buonasera da Caminate. Dunque, che cosa è successo qui alle 17 di oggi pomeriggio? Praticamente un incidente fotocopio di quello che è accaduto sabato scorso a Marotta. Tutto è successo all'interno di un'abitazione privata, in una casa isolata che si trova poco distante da dove ci troviamo, qui a Caminate. Intorno alle 5 di oggi pomeriggio all'interno di questa abitazione c'era un uomo di 72 anni con la moglie, la nipote e il fidanzato della nipote, fidanzato di 26 anni. Ad un certo punto, mentre stavano maneggiando con una pistola, al 72enne è partito un colpo che ha ferito il giovane alla gamba sinistra. La pistola che stava maneggiando pare sia una 765, una pistola dunque piccola. A un certo punto sono stati chiamati i soccorsi, il 118. Il 118 è arrivato e quando hanno chiesto che cosa era successo l'anziano ha detto che il giovane era stato morso da un cane. Però è una versione che non è apparsa subito credibile ai sanitari del 118, che quindi hanno chiesto per la seconda volta che cosa era successo. Subito dopo è venuta fuori la versione ufficiale, cioè che era partito un colpo di pistola che ha ferito al ginocchio il ragazzo. Di conseguenza il 118 ha chiamato i carabinieri. I carabinieri sono giunti sul posto e hanno chiesto informazioni sull'accaduto. Intanto i due sono stati trasportati all'ospedale San Salvatore di Pesero, non sono gravi. Il perché? Il perché hanno detto e hanno dato questa versione? Perché volevano semplicemente salvare il loro porto d'armi. Sono tutti e due esperti di armi, in particolare il 72enne è un cacciatore e aveva timore di perdere l'autorizzazione per andare a caccia. Cosa che probabilmente avverrà comunque nelle prossime ore. I carabinieri di Fano, comandati dal capitano Alfonso Falcucci, stanno indagando. Però non c'è nulla di particolarmente strano. Tutto sta tornando e quindi si tratta semplicemente di un incidente. Ripeto, un incidente praticamente fotocopia rispetto a quello che è successo sabato scorso a Marotta, dove un uomo di 64 anni, proprio mentre stava maneggiando una pistola, ha fatto partire un colpo che ha colpito al petto la moglie di 59 anni. La moglie che è stata poi operata al torretto di Ancone, adesso per fortuna si trova fuori pericolo. Da registrare soltanto un fatto, il perché di queste armi, il perché di questi incidenti. Probabilmente perché la gente comincia ad avere paura, soprattutto quelli che erano nelle case, come in questo caso, isolate di campagna. La gente si sta attrezzando, chi ha pistole in casa le sta rispolverando perché ha paura. E questo è il risultato, sono gli effetti collaterali. Ed è tutto qui da camminate. Bene, grazie Marco per averci aggiornato su questo episodio. Rimaniamo sulla cronaca. I carabinieri di Monteporzio hanno arrestato un marocchino che vendeva oggetti contraffati. Vediamo. Un marocchino 52enne, residente nel territorio, è stato arrestato dai carabinieri di Monteporzio per ricettazione e vendita di prodotti falsificati. L'uomo era da tempo noto alle forze dell'ordine. Dal 2007 ad oggi, in innumerevoli operazioni di polizia, al marocchino sono stati sequestrati accessori e capi di abbigliamento con segni distrittivi contraffati di vari marchi, tra cui Dolce e Gabbana, Nike, Prada, Gucci, Armani, Diesel e Lacoste. Il nordafricano, oltre a Monteporzio, svolgeva la sua attività in tutto il circondario, costa compresa. L'autorità giudiziaria ha emesso un provvedimento restrittivo in carcere, in quanto ritenuto l'unico mezzo idoneo a interrompere l'attività illegale. La vendita di prodotti contraffatti produce un incredibile arricchimento alle organizzazioni criminali che gestiscono la filiera del falso e arreca significativi danni economici ai tanti negozianti che commercializzano i prodotti legalmente, pagando le relative tasse. Questo pomeriggio a Fano, intorno alle ore 18, un uomo in evidente stato di ebrezza ha danneggiato tre automobili parcheggiate nei pressi del commissariato di polizia, alcune delle quali sono state danneggiate dal cestello di una bicicletta. Alcuni passanti che erano sul luogo e che hanno visto l'uomo danneggiare le auto hanno chiamato gli agenti di polizia che hanno prontamente immobilizzato l'uomo e lo hanno trattenuto nei locali del commissariato. E capiamo argomento, l'OMS ha diramato questo allarme carni rosse che ha scatenato un po' il panico in tutta Italia, sul web ci sono state anche alcune considerazioni, alcune colorite, alcune più interessanti. Noi abbiamo sentito il parere dei fanesi, vediamo che cosa ci hanno risposto. Cosa ha appena comprato dal macellaio? La salsiccia! E' buona? E non lo so, lo devo provare. Lunedì un'agenzia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che ci sono prove consistenti circa l'aumento del rischio legato ai tumori per chi consuma carni rosse e lavorate, oltre ad altre sostanze sospette sotto osservazione come il caffè. E' stato subito panico, tam tam mediatico, gran confusione di numeri e di cifre, tipi di carni, percentuali di rischio e chi più ne ha più ne metta. E allora tra i consumatori la paura della fettina assassina ha fatto crollare del 20% l'acquisto di carni rosse. Ma già dopo 72 ore il tutto sembra essersi ridimensionato e c'è anzi chi non ci ha mai rinunciato. Io mangio sempre la carne. Mangio sempre la carne, senza problemi. Non è che è aumentato magari il consumo di altri alimenti. Nient'altro. Ho sempre mantenuto costante il livello della carne, non troppo tutte le settimane come solito. Certo, con moderazione. Come giusto. Io non mangio la carne, sono vegetariana. Ah ecco, quindi ho beccato la persona giusta, quindi per lei non è niente di nuovo. No, non la mangio. Non la mangio, quindi insomma, per lei questa non è una novità. No, non è solo la carne che non si può mangiare, tante altre cose, dipende con cosa la coltivano. Perché non è la carne, la carne non ha fatto mai male. Quindi è quello che... Tutto il resto che purtroppo non viene nutrita con le cose giuste. Signora, mi scusi, posso chiedere che cosa ha appena acquistato? Ho preso della salsiccia. Ecco, buona. Come la fa? Beh, io adesso la tengo nei fagioli o nelle lenticchie, secondo. L'OMS ha detto che la carne rossa andrebbe consumata con prudenza. Pare che faccia venire. Ma io non è che ne consumo tante, non tutti i giorni. Ho preso il pesce. Quindi insomma, una dieta variegata. Variegata. La carne rossa fa male, hai sentito? Sì, l'ho sentito. Cosa ne pensi? No, ne penso che bisogna vedere in quale quantità se ne mangia di carne rossa e quante volte alla settimana. Anche gli insaccati dicono, insomma, i salsicci. Lo sapevamo già, lo sapevamo già da tanto tempo. Quindi con moderazione. Io credo con moderazione. È una mia impressione comunque, è una mia opinione. Con buona pace dei vegetariani, quindi, per i più esperti, nel giro di 15 giorni tutto sarà passato nel dimenticatoio. E del resto, se la fiorentina ha resistito alla mucca pazza, una fetta di mortadella non può certo spaventare nessuno. Noi italiani, in fondo, non siamo mai stati dei grandi voratori di carne. Il nostro consumo medio, dicono le statistiche, è di 100 grammi di carne rossa due volte alla settimana e solo 25 grammi di carni trasformate. E ora, dopo salsicce e caffè, chi sarà il prossimo a salire sul banco degli imputati? Allora, i clienti che entrano in macelleria in questi giorni, come commentano questa cosa della carne che fa male all'OMS e ha fatto questa dichiarazione? Allora, i clienti ne parlano, tanto è normale perché comunque i medi hanno bombardato in tutti i modi. I clienti ne parlano, sono attenti, ma soprattutto cercano di stare attenti alla qualità della carne. La carne deve essere genuina. Tutti sappiamo che l'alimentazione deve essere varia, si deve mangiare di tutto. E quindi, mangiata nelle giuste dosi, non è vero che fa male, soprattutto se è genuina. Andiamo nella pagina che riguarda la politica. L'ufficio patrimonio del comune di Fano, a ieri dal demanio, ha avuto in uso gratuito il parcheggio della caserma Paolini, risparmiando così 14 mila euro d'affitto. Ma in tema di spending review non sono soltanto queste le novità. Noi abbiamo sentito l'assessore Cecchettelli. Vediamo quali sono. È un contratto di locazione a titolo gratuito e quindi anche qui andiamo a risparmiare un affitto che stavamo pagando al demanio. Poi c'è l'area del Codma che anche questo è un risparmio notevole. Questa operazione, che è durata versi mesi, comunque ci ha portato un risparmio di circa 30 mila, 34 mila euro all'anno, che i suoi effetti li vedremo efficaci nel bilancio futuro, 2016 e avanti. Nell'ottica della rivisitazione anche del patrimonio, quanto mi sono insediata, abbiamo cercato di riutilizzare e riorganizzare dei locali che con diversi trasferimenti riusciamo a dare maggiore adeguatezza e maggiore efficienza ai vari uffici. Quindi è un'ottica di riorganizzazione e di efficientimento sia per quanto riguarda la macchina comunale, ma anche cercare di dare maggiori servizi ai cittadini. E andiamo in un quartiere che aspettava da tempo una registrazione della viabilità, stiamo partendo del quartiere Poderino. Questa mattina sono partiti i lavori per la risistemazione della cartellonistica, quindi segnaletica verticale, segnaletica orizzontale. Eravamo lì con le nostre telecamere. Questa mattina nel quartiere Poderino di Fano sono iniziati i lavori di modifica della segnaletica verticale e orizzontale per attivare i nuovi sensi unici di marcia progettati dal comune di Fano. Un quartiere, il Poderino, che attendeva da tempo un ridisegnamento della viabilità per migliorare l'accesso e il deflusso dal quartiere. I lavori ovviamente porteranno qualche piccolo disservizio, chiediamo alla cittadinanza di avere pazienza perché entro il 15 novembre finiranno e quindi avremo una viabilità totalmente nuova e io credo che risponda alle necessità di questo quartiere che ha strade molto piccole e quindi necessitava da molti anni di un cambio di viabilità per permettere di fare sensi unici che rendono appunto più vivibili soprattutto alle utenze più svantaggiate questo quartiere. Le strade interessate che subiranno variazioni di senso di marcia sono Via Antinori, senso unico direzione Mare-Monte, Via Dini e Via Gobetti, senso unico di marcia direzione Monte-Mare, Via Della Pace, tra Via Antinori e Via Fanella, senso unico di marcia direzione Pesero-Ancona. I parcheggi sono rimasti invariati sul lato destro della carreggiata come già gli abitanti erano abituati a fare, questo per non creare ulteriori cambiamenti. Questo è un primo intervento, poi comunque anche future segnalazioni, siamo disponibili ad avere anche eventuali suggerimenti per eventuali correzioni. Ecco, come sempre avviene, all'inizio c'è un periodo di assestamento, poi chiaramente se c'è qualche variazione in corso d'opera nulla osto. Anzi, chiediamo alla cittadinanza se ci sono delle variazioni, delle valutazioni anche successive, di segnalarcele che le valuteremo. Siamo in uno dei punti critici del quartiere Poderino, l'incrocio tra Via Libertà e Via Antinori. Via Antinori da Via della Giustizia diventerà la via di ingresso nel quartiere. Qui c'è uno stop, però per migliorare questo punto così critico e rallentare le auto in entrata nel quartiere a 7 metri dal punto d'arresto dell'incrocio verrà messo un dissuasore di velocità per appunto rallentare la velocità delle auto in ingresso nel quartiere. Lo scopo di questa nuova viabilità è quello di garantire maggior sicurezza agli abitanti del quartiere, ma si sa, come sempre la ricetta perfetta non esiste e quindi il Comune. fa appello alla collaborazione dei cittadini per digerire il cambiamento e valutarne poi il risultato. Nei prossimi giorni una pattuglia dei vigili urbani sarà presente in zona per gestire eventuali situazioni critiche derivanti dalle consuetudini e dalle abitudini degli automobilisti. A disposizione inoltre dei residenti il numero dell'ufficio traffico del Comune per ogni chiarimento 0721 88 7524. Bene, grazie per essere stati in nostra compagnia con quest'ultima notizia. Finisce questa edizione di Occhio alla Notizia. Grazie per essere stati con noi e buona serata a tutti voi. Grazie per essere stati con noi e buona serata a tutti voi.